e buon pomeriggio 16.01 puntuali Martina buon pomeriggio come stai? Bene molto bene buon pomeriggio Manuel Bartolini tu come stai? Siamo pronti? Siamo accoppiati sempre e comunque per una nuova puntata in questo martedì tema marene non era questo il tema non era il cibo oggi ecco no perché oggi guardando Martina Gatto questo bellissimo outfit mi è venuto in mente proprio questo guardate poi ditemi voi non lo so mi hai ricordato un pochino questo sbaglio sto scherzando? c'è un po' o no? Ma che cattivi! E tu sei però la perfetta marena che sta dentro capisci? Siamo perfettamente bilanciati come sempre bene ecco detto questo prego prego no sei molto carina sei molto bene veramente no scherzi a parte sempre chic la nostra Martina Gatto detto questo partiamo con la nostra puntata in questo martedì che ci aspetta ci aspettano tanti ospiti tanti temi ma il tema del giorno sono i cartoni i cartoni i cartoni i cartoni ringraziamo intanto anche le persone che ieri ci hanno scritto perché la puntata di ieri è stata molto intensa sull'amore sono tanti commenti che ci sono arrivati di ringraziamento e di riflessioni ovviamente su questo tema estremamente personale su Instagram c'è anche il reel con un estratto del nostro intervento con la psicoterapeuta e in effetti abbiamo affrontato dei temi molto molto interessanti ovviamente vi ricordo potete rivedere tutte le puntate sul canale YouTube di Cusano Italia TV nella playlist dedicata al nostro programma quindi pomeriggio estate potete rivedere condividere commentare esatto esatto interazione a proposito interazione vi ricordo i nostri contatti social la pagina Facebook pagina Instagram Cusano Italia TV e poi il nostro numero di telefono ci potete scrivere su Whatsapp numero che io ancora non ho imparato in memoria ma la tecnologia ci viene in soccorso con il sovraimpressione 342 627 5717 la tecnologia c'è la vista sempre meno Martina andiamo al sodo andiamo a scoprire qual è il tema e quali sono gli ospiti di oggi grazie alla copertina creata dal nostro bravissimo Luca Liaci vediamola insieme Di cosa parliamo questo martedì? Oggi ritorniamo un po' bambini facciamo un throwback nel mondo dell'infanzia con i cartoni animati e i fumetti immagini iconiche con cui siamo cresciuti e che hanno formato parte della nostra persona Si parla di infanzia felice ma anche di scelte importanti il nostro primo ospite infatti è Emanuele Gosti per dieci anni ai fornelli come cuoco poi la svolta improvvisa la scelta di lasciare il suo lavoro per dedicarsi al sogno di una vita il disegno Ma non anticipiamo nulla perché sarà il nostro ospite a rivelarci tutto Ormai è un must collegarci con il nostro antimo verde esperto di tv e spettacolo con cui facciamo un focus sui cartoni animati che hanno fatto la storia della televisione Un momento da non perdere e che farà venire le lacrime agli occhi a generazioni e generazioni E voi con quale cartone animato siete cresciuti? E poi ci colleghiamo con i creatori della pagina Cartoonize the World con realizzazioni che riportano alcuni personaggi dei cartoni nel mondo reale creando un effetto collage suggestivo Chiudiamo per un po' la parentesi ludica e dedichiamoci alla musica che da Martina Emanuele non può mai mancare E lo facciamo con Luca Baldini, presidente dell'orchestra multietnica di Arezzo Nella lente di ingrandimento la collaborazione con i Modena City Rambles Gli astri si allinano dopo le 18 quando sui nostri schermi appare Paola Aspri con il consueto appuntamento con l'oroscopo Avete preparato la solita bibita ghiacciata? Siete usciti dal traffico stressante della città? Noi siamo pronti a partire, restate sintonizzati con noi per l'ennesimo pomeriggio esaltante Con pomeriggio estate, se non lo guardate, ma dove andate? Pomeriggio estate, bravo Luca, bravo 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 Come faremo quando andrà in vacanza? Non ce lo mandiamo, pomeriggio estate, se non lo guardate, ma dove andate? Martina, io non vedo l'ora di iniziare Eh sì, perché il bravo Luca Liaci ha già un po' anticipato quello che sarà il tema di questo primo ospite Il cambiamento, ma anche e soprattutto quando un foglio bianco e una matita può salvarci la vita Lo sa bene l'ospite di oggi, quindi è un piacere avere qui a pomeriggio estate, Emanuele Gosti Buon pomeriggio Benvenuto, come stai Emanuele? Tutto bene? Bene, grazie Ti sei ambientato in questo studio? Sì, sì, è come se sto a casa praticamente Da dove ti abbiamo fatto arrivare? Tu non sei lontano da qui? Da Ciglia, da casa mia Da Ciglia, da casa tua Oh, bene, un pochino più verso il mare Esatto Rispetto a noi Oggi è andata bene, non ci ha messo troppo Ci ha messo anche 20 minuti, quindi non è stata così complicata Allora, Emanuele Gosti, illustratore e animatore 2D 2D, sì Emanuele, da bambino Giocavi più con le macchinucce, con i giochini, col trenino Oppure ti piaceva più disegnare? Beh, disegnare sicuramente Da quello che ricordo e quello che mi diceva più che altro mia madre Disegnavo, disegnavo spesso Disegnavi? Cosa disegnavi? Volti, volti di donne in realtà Sì? È rimasta questa cosa per molto tempo Donne che conoscevi o...? No, no Ok Sì, donne in generale Ti venivano in mente Sì, sì, sì E questo ritrattare i volti poi l'hai portato anche crescendo, no? Mi ero contato... Sì, fino a poi tre anni fa Prima di iniziare questo nuovo percorso E adesso affrontiamo Adesso, sì In effetti i cantanti, i poeti, quando si lasciano, ieri abbiamo parlato di amore Sì, sì Scrivono poesie, scrivono canzoni Esatto, io facevo questo E tu? Io quando mi lasciavo disegnavo lo stesso volto per settimane Se non un mese Sì, sì E poi scrivevo anche qualcosa, qualche poesia, qualche pensiero Allora, vediamo un po' Finisce, diciamo così, la scuola Sì E tu? Ah, siamo già arrivati a 18 anni Facciamo fare un salto Un salto, un salto Dei bambini di sotto Che cosa succede? Eh, ma è importante fare anche un passo indietro Allora c'è un passo indietro, vai Perché sì, succede che finisco la scuola E inizio questa carriera da cuoco Scelta un po' così Adesso se mi avessi chiesto perché hai scelto di stare in cucina Dieci anni fa, dodici anni fa ti avrei risposto perché mi piace No? Mentre adesso, avendo una consapevolezza maggiore di me stesso Ti posso dire che l'ho fatto per un senso di colpa Che senso? Senso di colpa per la mia famiglia Perché comunque io ho avuto un'infanzia, un'adolescenza un po' complessa Quindi con la separazione dei miei genitori Che mi ha lasciato dei strascichi Un po' di traumi Che si sono poi tramutati in insicurezza Ok Quindi io finisco la scuola e dico che faccio? Come la maggior parte dei ragazzi, no? E ho detto, boh, non lo so Che faccio? Mi metto a fare qualcosa Quindi per non deludere un po' la mia famiglia Poi deludere di cosa non si sa È più una cosa mia È una cosa personale Dovevi scegliere una strada, diciamo Ho scelto la cucina, esatto Era la tua urgenza Esatto, sì Una strada che hai intrapreso quindi con poca consapevolezza Hai fatto questa scelta però in realtà poi ti sei reso conto che non era propriamente forse la strada migliore Però l'hai intrapresa bene perché comunque poi ti sei impegnato la carriera Assolutamente Perché comunque sono un ragazzo molto, come dire, che vuole arrivare al suo obiettivo Se inizia ambizioso Se inizia qualcosa vuole arrivare La devi portare al termine e la devi fare bene Quindi qualsiasi cosa inizio la faccio bene Ok Questo è il mio carattere E sì, è il tuo modo di essere proprio Quindi hai fatto tanta gavetta Raccontaci un po' questo percorso Tanta gavetta, sì, ho iniziato In realtà la prima esperienza è stata in Toscana In un hotel stellato E lì lavoravo gratis Praticamente Stavo lontano da casa Abitavo in un cucuzzolo Su una collina Io mi ricordo ancora questa casa Dentro i piccioni Figurati Stavo così C'evovo vent'anni Neanche, diciannove forse E gratis Quindi ho fatto le mie esperienze La mia gavetta Quella è stata l'inizio di tante altre esperienze che ho avuto Che ti hanno portato anche in giro Sia per l'Italia Che per il mondo poi Sì, sì Poi ho deciso di partire A 22 anni Per andare a Londra Quindi prima esperienza da solo Completamente Mi ricordo quando Trovai il lavoro Dopo tre giorni Ho chiamato mia madre In lacrime Perché ero contentissimo E hai trovato questo lavoro Sì, sì, sì Ero contentissimo E lei che ti ha detto? Lei piangeva insieme a me E quindi sì Ho vissuto a Londra per tre anni Poi si sa Quando sei lontano da casa Un po' Il clima anche di Londra Non era per me Io amo l'estate Amo il sole Quindi ho sofferto un po' Quei tre anni Ad essere onesto Di grigiore C'era troppo grigio Sì, sì, sì Quindi decisi di tornare a casa A Roma Ho lavorato a Roma In un ristorante molto bello Al centro E diciamo che Lì a 26 anni È iniziata La mia prima crisi Esistenziale Cosa è successo a un certo punto Ho capito che quello che stavo facendo La strada che avevo intrapreso Era completamente sbagliata Perché stavo male Mi ricordo anche che Spesso piangevo la mattina Perché dicevo Sapevo che avrei rivisto La mia famiglia I miei amici La mia ex compagna Con cui stavo Certo, i tuoi affetti Una volta alla settimana Quindi io uscivo la mattina alle nove E tornavo a casa alle tre di mattina Tutti i giorni Facendo una cosa che non mi piaceva più fare Quindi immaginare la fatica Ti sentivi un po' in gabbia Mi sentivi un gabbio Ma non sapevo cosa fare Quindi essendo ambizioso Quindi anche questa cosa Essere ambizioso in questo caso Può essere un'arma a doppio taglio Perché vuoi arrivare Ma non sai dove andare E non avevo mai messo Non avevo mai pensato di disegnare Quindi di intraprendere un percorso Ma in tutto questo periodo Il disegno comunque faceva parte di te? Poco, Manuel Perché il tempo che avevo era poco Come ho detto all'inizio Disegnavo quando mi lasciavo Come sfogo però Come sfogo, sì L'ho preso, esatto Sì, come ancora di salvezza in realtà Ti ha salvato veramente sempre Questi ambienti delle cucine Ovviamente Manuel ci sguazzerebbe dentro Avrebbe A mangiare forse A mangiare, anche a cucinare Insomma è un ambiente che incuriosisce tanto Invece tu lo vivevi male proprio Oltre allo stare tanto lontano da casa Che cosa provavi quando eri lì dentro? Ma semplicemente non mi sentivo me stesso Non mi sentivo me stesso Era un ambiente molto ostile Da virgolette Senza virgolette Forse ecco i posti dove io ho lavorato I ristoranti dove sono stato Erano abbastanza severi Sembrava di stare dentro la scuola militare Ok Stato stress Ero molto sensato Ero un'altra persona Ragazzi Ero molto Ero nervoso Spesso Ero un altro tipo di persona Perché comunque lavori tutto il giorno sotto stress Ma qualcuno se ne era accorto un po' di questa tua crisi? Tu ti eri confidato con, non so, un familiare Un psicologo Un psicologo Beh già Che è fondamentale secondo me Bravo Però già quindi facevi terapia in quel momento? Sì ma a me mi è sempre piaciuta questa cosa Questa introspezione ce l'ho sempre avuta Ok Ho iniziato a 18 anni Poi ho smesso, ho ripreso, ho smesso, ho ripreso Però mi è sempre piaciuta Nessuno mi ha mai, no comunque nessuno ha mai visto questa crisi Nessuno se ne era accorto Ma perché l'hai nascosta, l'hai nascosta bene oppure secondo te non si Ma forse perché si erano così abituati a vedermi in quel modo che sì Poi ovviamente mi sono esposto Mi sono esposto e la cosa peggiore è che non sapevo cosa fare Era quella la cosa che mi spaventava Ma infatti, infatti, ho poi cambiato e ho detto ok, che cosa posso fare? Non avevo il coraggio di cambiare completamente settore Quindi che fai? Mi sono spostato in pasticceria Dico vabbè forse ecco Pensandoti Più o meno Cambio settore, lavoro in pasticceria Dove sono ancora più severi Sì in realtà mi piaceva anche di più perché comunque ho un lavoro di precisione Certo, è chimica la pasticceria Sì Era bello Però comunque non era quello che volevo Dentro Sei andato in Australia poi? Poi nel 2018 ho preso un biglietto solo andata per l'Australia E questo è stato il viaggio che poi ha cambiato tutto Tutto quanto? Grazie anche, dico grazie perché per me è stato così Grazie al Covid Nel 2020 che ci ha rinchiuso dentro casa Ti sei ritrovato con te stesso? E là no, più che me stesso con la matita perché ho ripreso a disegnare tutti i giorni L'ho preso come un lavoro praticamente Invece di stare sul divano a vedere serie tv Mi alzavo la mattina e disegnavo Ho ripreso dalle basi perché erano anni che non disegnavo veramente Quindi anche questa cosa mi fa sorridere Quando mi dicono Ah tu hai talento Il talento non c'è Cioè il talento è fatto da costanza e determinazione Cioè anche io tre anni fa disegnavo rispetto ad adesso malissimo per esempio Però mi ero posto l'obiettivo Quindi mi alzavo, disegnavo E fino a che poi ho pensato di aggiornarmi un po' con la tecnologia E quindi ho acquistato una tavoletta grafica usata tipo di quarta mano 100 dollari Ho studiato un pochettino i software Photoshop per conto mio Durante sempre la pandemia E ho iniziato a disegnare in digitale Quindi a scoprire un po' il colore Perché prima ero abituato con la matita, con la grafite E mi ero posto un altro obiettivo Ho detto adesso mi apro un sito, un profilo Instagram E pubblico al giorno un'illustrazione, un ritratto Infatti anche lì disegnavo sempre ritratti, volti E così ho fatto Fino a che poi dopo mesi mi ha contattato uno studio australiano Che voleva acquistare i miei disegni Ho detto non ci posso credere, oddio Posso guadagnare con questo, non ci credo E da là tutto è iniziato E lì hai avuto una lampadina Esatto Io direi, vediamo un cortometraggio Di chi sarà? Disegnato Di chi sarà? Lo scopriremo dopo perché ci racconterà tanto di questa storia Vediamolo insieme Vediamolo insieme Per leee Ed. Che czasie della storia Lo scopriremo Vorcereatore Grazie a tutti. Grazie. 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 Una fine che non è una fine. Emanuele, hai emozionato tutto lo studio. Bravo, complimenti. Spieghiamo un po'. Questo è il cortometraggio di laurea. Esatto, come tesi. Esatto, come tesi di un percorso che hai iniziato e hai preso quella decisione famosa di iscriverti in questo corso molto importante proprio durante il Covid. Dopo, cioè finito il Covid. Sì, sì, durante, nel 2020. Quindi che cosa è successo? Si è accesa la lampadina. Mi si è accesa. Forse posso disegnare. Sì, mi si è accesa la lampadina grazie a questo studio australiano. Allora ho detto cosa posso fare, perché non conoscevo i lavori, i mestieri che si potessero poi fare con il disegno. Quindi mi sono un po' informato e ho trovato questa accademia molto valida che mi ha colpito. Ho fatto il colloquio online dall'Australia. Dopodiché a settembre mi sono iscritto. Non sapevo minimamente di intraprendere un percorso con l'animazione 2D. Questo corto ha più di 3.000 disegni. Ok. È stato molto lungo. Sono messo tre mesi, ho fatto tutto da solo con l'aiuto ovviamente del sound designer Emanuele Di Matteo. Sono tutti disegni che fai tu e che poi vengono montati per dargli il movimento. Sì, sono disegni frame by frame. Quindi è un secondo a 24 disegni. Ok. A volte anche 12, dipende dalla velocità. Però si vede che sei un cuoco, cioè il soffritto sedano e quello di cipolla. Cioè sono proprio disegniato dopo le vici. Esatto. E niente, quindi... Quindi ti sei iscritto in questa scuola e sei ritornato in Italia, quindi. Sì, sono tornato in Italia. Sì, ho fatto altri sacrifici perché comunque ho lasciato il lavoro, dove guadagnavo pure abbastanza bene. Ho ricominciato da capo. Ho vissuto da solo per 11 anni. E tornare a casa, la papà, insomma, è stato abbastanza pesante. Però devo dire che ho avuto sempre vicino una famiglia che mi ha sempre sostenuto in questa scelta. Cosa che all'inizio, per esempio, mio padre non ha fatto, no? Quando ero piccolo, perché quando volevo intraprendere anche un liceo artistico, per esempio, diceva che fai col disegno, che ti metti a fare, no? E invece questa seconda volta com'è andata? No, lui è il mio primo sostenitore. Vedi? Sì, sì, sì. Cosa è cambiato secondo te in lui? Ah, forse ha visto me. Ha visto il vero me. Ti ha visto proprio deciso. Aspetta, qui guarda in camera. Ha visto il vero me. Così papà è contento. Sì, esatto. Cioè, quell'anima che è stilizzata, ha però il volto di qualcuno. Eh, sono sempre io. Cioè, sempre me stesso, che ho ripresso per molto tempo. Bellissimo. È bellissimo. Hai avuto paura, però, nel fare questa scelta? Nel senso, hai detto giustamente bene tu, hai lasciato un lavoro anche che... Sì, sì, stavo abbastanza bene. Stavi bene, comunque uno stipendio che ti permette di fare tante cose. Verso l'ignoto, perché sì, la passione, però in realtà di tangibile non avevi nulla. Hai avuto paura? Sì, inizialmente sì. Ovviamente, però bisogna andare avanti. Però vedi che forza, che coraggio. Eh, bisogna andare avanti, se no, se uno si ferma la paura. Che quello è il nostro cervello, no? Che poi comunque siamo, no? In una fascia d'età in cui siamo giovani, però comunque siamo grandini, eh. Eh, vedi tutti i tuoi coetanei che comunque si sistemano, fanno famiglia, vanno una casa, destra e sinistra, e poi ci sei tu che vai in giro per il mondo e ancora devi capire in serie. Capito, che dici che cosa devo fare e cosa non voglio fare. Questa cosa è un po' che mi ha messo in difficoltà. No, però invece questa secondo me è una cosa molto bella, no? Non avere paura, cioè la paura comunque c'è, però avere quel coraggio di ribaltare tutto. Esatto. E di cambiare e di dire io non sono felice, che cosa faccio? E poi anche senza dare troppe, no? Le colpe. Perché poi la vita è la nostra. Io spesso pure mi capita con tanti coetanei, sento, è una cosa che mi dispiace, no? Viene data la colpa ai genitori. Però i genitori, i genitori sono umani, nel senso che se io domani dovessi avere un figlio, io me lo aspetto bravo, in gamba, avvocato, medico, no? Lo dico io per primo, ok? Si hanno, cioè credo che sia anche un po' normale, no? Per un genitore avere queste, come dire, queste aspettative. Però poi sta anche a noi fare quel saltino e dire voglio fare questo, voglio fare quest'altro. E anche se abbiamo preso un percorso, interromperlo e cambiare. Non è facile, però. Perché se continuiamo ad andare avanti per quella strada, poi si continua a dare la colpa, perché poi si trova qualcuno, no? Un genitore, un parente, il caso, non si sa. Perché è più facile della colpa agli altri. Perché è più facile. Invece sta a noi. Esatto, esatto. Questo però comporta poi delle conseguenze. Nel senso che questo cambiamento che ho avuto mi ha portato a rimanere rinchiuso dentro casa, a lavorare costantemente. Disegnavo tutti i giorni, andavo in un'accademia, frequenza obbligatoria, quindi dal lunedì al venerdì andavo a casa alle otto e disegnavo anche dopo. Però quando andavi in accademia come ti sentivi? Quando facevi quel tragitto? No, io lo prendevo come un lavoro. Per me non ero uno studente, io ero uno che andava lì, un dipendente, andava lì a lavorare e a imparare il mestiere. Non l'ho mai presa come uno studente che pensa al voto. E non c'erano quelle lacrime che invece c'erano nel tragitto casa-lavoro? No, sì, anzi ero contentissimo. Sono contentissimo. Non hai mai pensato di tornare indietro per un attimo? No, mai. Senti, ma tu che cosa sai cucinare di buono? Ma in realtà tutto. Tutto? Sì, sì, sì. Una gara tra cuochi qua dentro. Ma guarda, forse ti dico i dolci perché io amo i dolci, mangerei torte all'infinito, torte all'infinito. Però con la dieta, la palestra è un po' casino. Se ci sta Giulia che mi sente, mi uccide. La persona trainer, sì. È chiaro. Emanuele, hai ritrovato quella luce negli occhi che avevi perso quegli anni in cui eri in cucina? Sì, 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 assolutamente. E i tuoi amici, le persone che comunque ti conoscono, che ti dicono? Perché immagino che avranno notato poi invece il cambiamento in positivo. Assolutamente. Alcuni li ho persi perché si sa... Cambiare. Cambiare. Cambiare porta anche a cambiare amicizie, rapporti in generale. Altri che sono rimasti sono importantissimi. Ci stanno, ci stanno sempre. Da prepassare una luce, una scia di positività. Assolutamente. Andiamo verso gli obiettivi per il futuro e i desideri? Sì, assolutamente sì. Qual è il tuo? Dai! Beh, ci sono un po' di progetti in ballo. Vediamo un po'. Non è ancora niente di sicuro. Però sicuramente promuovere il mio corto a qualche festival. Certo. Partecipare allo IED Awards, perché sono stato nominato come miglior cortometraggio. E quindi parteciperò a questo IED Awards a ottobre a Roma. Quindi vediamo quello che succederà. E poi lavorare in uno studio d'animazione, perché mi sono appassionato a questo settore da un anno. Quindi realizzare... Sì, cartoni animati, cortometraggi. Però senza mai tralasciare anche il mio livello un po' d'autore, no? Quindi continuare a creare cose per me. Realizzare cartoni animati. A Cusano Italia TV mancano ancora i cartoni animati. Chissà che... La lanciamo così, va bene Emanuele. Emanuele, dove possiamo trovarti sui social appassionati appunto delle tue illustrazioni? Sì, su Instagram, leleartist89, che è ancora in fase di sviluppo, però... Ci sono delle chicche interessanti. Oggi, anche se andate sui nostri social, trovate comunque i tag di riferimento. Assolutamente. Grazie Emanuele Gosti, illustratore e animatore 2D. Grazie per questa ventata d'aria fresca e questa luce negli occhi che ci hai dato. Grazie mille. Grazie a tutti. E buon lavoro in bocca al lupo per tutto. Noi adesso ci fermiamo per qualche minuto. Dopodiché... Ai di... Ai di... Di tutte e di più. Ah, ce l'hai vedi tu un cartone preferito? Sì. Da piccola? Dai capelli rossi... Publicità. E poi cartoni animati con Antimo Verde. A tra poco. A tra poco.